ciao ragazzi e bentornati su neagon academy oggi come vedete vi presentiamo una configurazione per ghost of tsushima con il revolution pro controller v3 come potete vedere su schermo impostiamo l'analogico destro con un 40 per cento 70 per cento così da garantire una precisione ottimale con arco e frecce mentre impostando in questo modo i tasti sul retro andremo ad avere accesso rapido a schivata utilizzo dei gadget fantasma parata e salto così da poter penetrare nelle linee nemiche senza troppe difficoltà se ne vedete a 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 Grazie per la visione!